Con la scuola guida sono a buon punto, come sempre. Però le guide, quelle fatte in scuola guida, non ce la faccio più. Che significhe? Cos'è successo? Perché mi fanno guidare delle macchine bruttissime e... Mi fanno schifo. Ho provato a informarmi se potevano farmi delle guide, che non so, con le Bentley, con le Rolls... Con le Rothman, con i Don San Martins, i Rottweiler. Ma invece per regolamento... per regolamento non si può. Ma no! Ma come? Ma qualche puttana! Sono molto triste per questo. Ma no, Amen! Ma stai tranquillo! Alla fine mi fido a lasciarle guidare Cayenne perché... Ma chi cazzo è? Ma chi cazzo l'ha chiamata? La macchina... bastava comprare una nuova per quello. Cioè se facevo dei danni... dei danni danni, ne compravo una nuova. Che discorsi? Sono stata io a fare il danno. Ricci è tua mamma con me. Era scarico, te lo ricompro.